All'eccellenza dell'industria automobilistica piemontese sono dedicate la copertina e l'apertura del numero appena pubblicato di notizie, il magazine della Regione Piemonte che ospita l'editoriale del nuovo Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. La rivista celebra anche numerosi anniversari, dai 150 anni dalla Croce Rossa, ai 20 anni dalla drammatica alluvione che colpì duramente il Piemonte, fino al centenario della Grande Guerra. Infine, tra gli articoli di attualità, ampio spazio è rivolto alla società multietnica, che ha cambiato oggi il volto della Regione.